Ehi c'è mi sai se rispondo ancora che vuoi C'ho ancora un bote, veleno per voi Mi vedo solo in the team come i gameboy Con M sempre sulla vetta come un gargoy Sta merda è forte e ti morde come un dropperman Fumo, erba proveniente dal porto di Rotterdam Feleno e vado agli fericoli, urla e gli impedi Esplodo e non c'è modo di rimanere integri Mi sfregia come rinforzato Ah quindi le gai 120 nel faglio Ti lascio a bocca aperta come Filippe V Riconosci il campione? Siamo l'arsenico, veleno Quello che semino entra in città Non ti basta uno terino Finisci il tappeto come Gerico Edmundo, I'm an animal Chiamo un medico con un anestetico Che faccia fermare il tuo pianto isterico Volo come un falco Ovattato dall'alcol Salgo sul palco, ti spacco Come parro Fatti una foto coi divi Clicca poi sorridi Prima belli poi nocivi Come i baci di poi sonniti Ciao a tutti e ragazzi per avervi un nuovo video di ZZ Raptor Siamo tornati anche noi Con i nuovi video Siamo qui con la nuova season Perché la Bungie pare che gliene frega un cazzo Cioè la Bungie non ha capito un cazzo Non guarda i propri errori E quindi ha introdotto qualcosa Di un po' troppo forte Siamo qui per parlare della nuova natura da Stasi Del cacciatore Oggi vi porto questo setup Che ho già provato ed è veramente Veramente forte Proveremo la nuova natura da Stasi Per chi non sapesse Tocco invernale Migliora tutte le tue granate da Stasi Le granate da Stasi sono tre La granate degli acciai Quella che crea muro Adesso anziché un muro ne crea un esagono di muri Ed è molto molto più grossa Allora la Crepuscolo è potenziata Anche questa Aumenta il campo di rallentamento L'area e diciamo la vicenda di rallentamento E crea anche un piccolo frammento di Stasi al centro Che puoi quindi triggerare e frantumare Che la granata invece della Morsageida Quella in seguimento Ne migliora la velocità La distanza E ne aggiunge un concatenamento Oggi andremo a giocare come setup Con i geloni E cento di disciplina Cioè noi giocheremo con la terza granata Granata della Morsageida Per mettere i bersagli fermi Ucciderli E non solo Anche se non li uccidiamo E li congeliamo e basta Avremo bonus ai danni delle armi E quindi Possiamo bitappare con i 120 RPM Sconfiggere i bersagli rallentati o congelati Ci fornirà abilità di classe E poi danneggiare invece Col corpo a corpo Ci ricarica le armi Tutto ciò giocheremo Con 120 RPM ovviamente E perché era importante Avere un regain della schivata alto Perché non solo Scattando ci ricarichiamo Tutte le abilità Ma poi giocheremo Con cento di disciplina E bombardiere Doppio bombardiere Sul patto Sul mantello In modo tale che Per ogni schivata Guadagneremo Un sacco di energia Per le granate Insomma Avremo una granata Ogni 15-20 secondi Una roba fuori di te Come altre mod Abbiamo messo Della carica di precisione Sempre per caricarci di luce Con i 120 RPM Perché congelando Di base Avendosi a furia Avendo il congelamento Avendo le cariche di luce Il nostro martello igno Bit up era quasi sempre E poi sto testando Questo fatica e tribolazioni God roll Con elicoidale Rifini Ci volata Istantanea E gittata E poi come terziaria Scegliete una a vostra Piacimento Ho messo un canone a trazione Ma potete essere anche Meno figli di puttana Questo regà Veramente veramente forte Potete volendo mettere Induzione e impatto Sulle braccia solari Per ridurre ancora di più Il recupero delle granate Questo sta a voi Signori io direi Che andiamo a tesare Tutto in crogiolo E ci becchiamo Direttamente in game Giochiamo su centro città Allora giusto Stata schermata Adesso regà Che vi permette di scrollare Tra gli alliati Per vedere che sottoclasse Che classe sono Le armi che usano E soprattutto Il ratio Le kill stagionali Insomma Per capire Qual è il membro Più scarso del tuo team Signori eccoci qua in game Per la prima volta Che uso la stasi Dopo tanto tempo Mi segui su twitch E sai che Ottimamente so Fa le prove E andà sul faro Solo e soltanto Solo e soltanto Utilizzando Altre sottoclassi Di luce Ho fatto una cifra Di fari Utilizzando Col titano I martelli Ramo basso Col cacciatore Invece le lame spettrali La downblade Che è sempre forte Con Con lo stregone Andare qua dentro Se va così Ciao Che schifo Raga Ho mai detto Che hanno Nerfato i 120 Raga Ho mai detto Che hanno Nerfato i 120 Rpm Hai chicco Hai rotto Un po' le palle Titano Tattacca La boccetta Abbiamo abbastanza Pietà Hanno modificato Un sacco Di roba Ma sta regola Di merda Ancora no In dardo De caduto Schermata Sai che mi pare Raga Mi pare un po' Tinder Tipo No Brutto Brutto Scopabile Brutto Carino C'hai capito Mi pare la stessa cosa Andiamo a faremo Raga Gioco Un game Completo 113 For come chiamiamo 113 Oh yeah Oh yeah Aspetta regalo Fatica tribolazioni Sto god roll Che ho trovato Un sacco di gittata Ovviamente Il problema È che fa laggare Le persone Avete visto No Il problema È che Mamma mia È veramente Lento A estrarlo A tirarlo fuori Mamma mia Non è Fatti 120 Bella Vette Amore Mio Guardalo Come prova Le armi nuove Invece Io sono Un pezzo Di cane Chiudo Ancora I 120 Sì Immagina Viene congelato E poi Ucciso Col cannone A trazione Mamma mia C'è stato Nel fatti 120 Mamma mia Che ve l'ho detto C'è stato uno Dei nostri Che vuole Prende C da solo Un eroe Vieni qua Che bello Fra fallito Il salto E l'ho ucciso Lascio un po' Di crisantemi Madonna Che è laggata Ha tirato Poi boom Buff Dei danni Dalla stasi E 120 Iniziano a togliere Un boato 124 In capocce Basta Con queste pistoline Prima cosa Bara queste pistoline Che almeno Se la gente De usa quelle Non può usare Racconto L'uomo morto Signori Pronti Congela Uno Congela Due E l'altro Non è scappato Lo so che vuoi uscire Lo so che vuoi sarta Do cazzo Vai Holy shit Madonna mia Regà Regà No Eri successo Regà Ma per parte che io Mi devo suicidare Perché se no Non posso fare Kill Ero invisibile A loro E non posso più Ucciderli Secondo me È un modo Da bungee Per avvisarmi Di Oh State calma Hai rotto le palle Te sta stasi Comunque il cacciatore Da stasi Per quanto venga Nerfato Ha letteralmente Troppi tool Da utilizzare Tra gli shuriken E la schifata pure Che può Slow E ovviamente Il pull di granate Che adesso è anche Potenziato Da sto frammento Di stasi È veramente Tanta Troppa roba Secondo me Tutto mio Chico Ma mi ha detto Che non è Fati 120 Non lo so Sto pompa Mi sta proprio a piacere È lento In culo Ma Proprio forte Il tutto Poi Ha colmato Dai geloni Che semplicemente Correndoti Ti ricarica Tutto Cioè gioca così Raga Con 100 disciplina Con i geloni Con la natura Della stasi Frammenti giusti Ciclitalmente Tante volte Le granate Le abilità Da stasi Che Fai letteralmente Da solo La differenza Come voleva Si dimostrare Regà Sta cazzo Di natura Sta nuova natura Sto set È OP 58 kill Ratio A 9 67 Porco 2 Ditemi Se volete Un video In cui vi dico Che hanno Nel frato 120 Comunque Dai regà Là Così C'era nessuno Mannaggia a me regà Che c'ho sempre Fretta Di tirarla A cazzo De cane Sto cristo Di dio Di shuriken Oddio no Madonna Il Vietnam Come quando apri La porta Del frigorifero Regà E ci trovi Tipo Il formaggio Andato a male Da Da tipo Due settimane Cazzo Andato Madonna Perché Ha richiesto Cannone portatile In parto Porco 2 Ci metti L'eternità Tranquillo Uno schiaffo Tranquillo Oh sì Guarda Come hanno Nel fatto Questi 120 RPM Fratellino La mia Granata Ma perché Sei messa A scalare Le pareti Ma c'ho La granata Messner Raga Artissima Levissima Purissima La granata Mia Di merda Raga Sono proprio Uno spettro Un giorno Di due Hai visto Eh Ho detto Via 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 Raga Ancora Giovene Eh Oh yeah Aspetta Ti piacerà Ma esiste Un crogiolo Pure in cui Ci si muove Ormai esiste Raga Solo il crogiolo Da fermo Il crogiolo De belle Statuine No 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 Eh Boi Me ne vado Ratina Lo sapevo Che lei È un vero Intenditore Eh Che Ciazzo Datemi un tornato E vi congelerò Il mondo Dissero Quante cazzo Di onde del caos Stanno tirando Ma che stiamo a giocare A Shanghai Con le onde del caos No One Fra Oh yeah Ragazzo Stai tutti Boom 113 Boom 99 Qualcun altro No 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 Volevi Volevi Amore mio A 19 di fila Però uccidermi Così mi pare Esagerato Oh merda No no Per favore Me ne vado Che giubbò Tanti proiettili Ho sparato Da mezzo Ma erro Vabbè Ragazzi Se te vengono Uno alla porta Buffè Che fai Non l'ammazzi E signori E vanno Avvince Anche quest'altro game 35 kill Rate a 11 La nostra serie Spumata a 19 Per colpa Di un pezzo di meta Che ci ha congelato Signori Io direi che per questo video È tutto Vi ho mostrato Un setup Secondo me Veramente Valido Non esagerate Con la stasi Io sono comunque Sicuro che riceverà Ulteriori bilanciamenti Un nerf In futuro Speriamo Ne è meglio Perché Bello Dessi 2 Mi piace Mi piace tutto Ma sono Innamorato Più della parte PvP Del gameplay PvP Di questo Gioco Quindi Speriamo bene Speriamo bene Speriamo Ci vediamo al prossimo video Beh Speriamo 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 Speriamo